Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento della nostra vetina dell'auto. Oggi ci troviamo ad Esio in compagnia di alcuni collaboratori di Zappa Auto, con i quali andremo a scoprire le imperdibili offerte. Buonasera a tutti, io sono Riccardo e bentornati appunto qui da Zappa. Vi presento subito questo Mercedes classe C 220, motorizzazione 2.270 CV, chilometri percorsi sono 109.000, vettura del 2015. Per dispondere di tutti gli optional quali appunto fare allo Xenon, sensore di parcheggio anteriori e posteriori, viva voce Bluetooth, un cambio automatico con navigatore. Lo proponiamo a un prezzo di 21.000 euro. Bentornati da Gerardo, passiamo in casa BMW, oggi vi presentiamo questo fantastico BMW 320 GT. L'autovettura è matricolata nel 2014 e ha percorso 113.000 km, cilindrata 2.184 CV. L'autovettura è composta di ogni comfort, dal cambio automatico al navigatore, Bluetooth, volante multifunzione, fari Xenon, sensori posteriori e portellone elettrico. Ve la proponiamo a un fantastico prezzo di 18.500 euro. Un benvenuto anche da Alberto. Vi presento questo splendido coupé di casa BMW, un 420, 2.000 casolio, 184 CV che ha percorso 91.000 km. La vettura è full optional, completa all'interno in pelle, navigatore, cambio automatico. Lo proponiamo a 29.300 euro. Un ciao a tutti da Cristian, vi presentiamo ora una bellissima Audi A6 nella versione Avant. La cilindrata è 2.000 turbo diesel, l'anno di matricolazione è il 2014, ha percorso 90.000 km. Ed è dotata di molti accessori, quali fare lo Xenon, sensori di parcheggio, viva voce Bluetooth. La proponiamo a un prezzo di 16.300 euro. Rimaniamo in casa Audi, vi presentiamo questa Audi A3 2.000 turbo diesel, 150 CV. L'autovettura 2015 ha percorso 96.000 km, dotata di ogni comfort, da tetto a pribili, sensori parcheggio posteriori, fari Xenon, navigatore, volante multifunzione e Bluetooth. Ve la proponiamo a un prezzo di 19.900 euro. Parliamo ora di una bellissima Golf, cilindrata 1.4 turbo benzina TSI, ha percorso solo 56.000 km. L'anno di matricolazione è il 2014. Ha 140 CV, quindi il motore è abbastanza potente. Ed è dotata di sensori di parcheggio, viva voce Bluetooth, volante multifunzione e anche il cambio automatico DSG a doppia frizione. È proposta a un prezzo di 14.300 euro. Siamo in casa Audi con questo Q3 2.000 gasolio a 184 CV, anno di matricolazione nel 2015. La vettura ha percorso 80.000 km ed è dotata di navigatore e cambio automatico Cruise Control. La proponiamo a 28.000 euro. Un'altra Audi Q3 decisamente diversa rispetto a quella precedente. Questo qui è un 2.140 CV, vettura immatricolata nel 2014. I chilometri percorsi sono appunto 43.000, sempre diesel. Presenta appunto dotazioni di serie quali ABS, ESP, climatizzatore, farello Xenon, cambio manuale, navigatore, volante multifunzione, cruise control e Bluetooth. La proponiamo a un prezzo di 23.300 euro. Adesso vi presentiamo questa Audi A1 S-Rine fuori e dentro. L'autovettura è immatricolata nel 2016 e ha percorso soli 47.000 km. È un 1.16 cilindrata a 116 CV. L'autovettura è dotata di bicolore, blu e argento tetto, con Bluetooth, volante multifunzione e cruise control. Bixeno, sensori di parcheggio posteriori e anteriori. La proponiamo a un prezzo di 19.000 euro. Passiamo ora a presentarvi una stupenda autovettura di casa Audi. Un Audi A3 in versione Sportback. 2.000 turbodiesel con la bellezza di 184 CV. È del 2014, ha percorso 118.000 km ed è full optional perché ha i faroloxeno, i sensori di parcheggio, navigatore, cambio automatico, viva voce Bluetooth. Quindi ha proprio tutto. Ed è proposta a un prezzo di 19.800 euro. Per gli amanti dei piccoli fuoristrade invece passiamo in casa Jeep. Favoloso Jeep Renegade, motorizzazione diesel 1.620 CV, allestimento limited, interno in pelle, clima automatico B-Zona, quello che sono appunto sensori di parcheggio, vettura del 2015 con 69.000 km. La proponiamo a un prezzo di 17.900 euro. Siamo in casa Mercedes-Benz con questo classe A 160, motorizzazione 1.5 turbodiesel 90 CV, vettura guidabile anche da un neopatentato, prima immatricolazione 2016. La vettura ha percorso solamente 26.000 km, è dotata di navigatore cruise control e viva voce Bluetooth. La proponiamo a 19.200 euro. Passiamo ora a una vettura di casa BMW, è una serie 1, modello 118, cilindrata 2.000 turbodiesel, del 2014 come anno di immatricolazione, ha percorso 115.000 km, i cavalli di potenza sono 143 e viene proposta a un prezzo di 12.500 euro. Passiamo in casa Ford, eccoci qui con un Ford Fiesta, immatricolato nel 2014, cilindrata 1.575 sono i cavalli, 56.000 km percorsi, è una vettura con un allestimento di partenza. Prevede appunto radici di MP3, specchietti elettrici, Bluetooth, volante multifunzione. La proponiamo a un prezzo veramente ottimo, di 8.700 euro. Vi presento ora questa Mercedes classe A 180, motorizzazione 1.5 gasolio, 109 CV. La vettura è stata immatricolata nel 2014 e ha percorso 80.000 km, è dotata di navigatore, cambio automatico, cruise control, la proponiamo a 18.000 euro. Parliamo adesso di una bellissima DS4, una macchina che ha la cindata di 1.6 turbodiesel, l'anno di immatricolazione è il 2015, ha percorso solo 50.000 km ed è dotata di parecchi accessori, come i sensori di parcheggio, i viva voce Bluetooth, navigatore e addirittura il cambio automatico. Viene proposta al prezzo di 15.500 euro. Parliamo invece di questa favolosa 500X, casa Fiat. Vettura aziendale 2017, chilometri percorsi sono 16.000, motorizzazione 1.6, 120 CV, diesel. Quello che è appunto l'allestimento Popstar, sensori di parcheggio posteriori, radio CDMP3 con Uconnect da 5 pollici, Bluetooth, connessione appunto anche per cavo AUX e porta USB, specchietti elettrici, cerchio in lega, cruise control e appunto quello che è il climatizzatore manuale. La proponiamo a un prezzo di 18.500 euro. Per gli amanti delle prestazioni invece passiamo a questa BMW 430 di blu scuro metallizzato, vettura 3.000 con 258 CV, chilometri percorsi 91.000 immatricolati nel 2015. Ovviamente anche lei full optional, con anche cambio al volante. Quello che è poi il discorso navigatore, appunto, radio CDMP3, file allo Xenon. La offriamo a un prezzo di 30.500 euro. Siamo in casa BMW con questo 520 diesel, 2.000 gasolio, 190 CV, anno di immatricolazione al 2015, la vettura ha percorso 98.000 km, è assolutamente full optional, quindi completa all'interno in pelle, navigatore e cambio automatico, è proposta a 23.300 euro. Siamo in casa Citroen con questo C4 Picasso, 1.6 gasolio, 116 CV, la vettura ha una prima immatricolazione nel 2015, i chilometri percorsi sono 103.000, è dotata di navigatore, cambio automatico, viva voce, bluetooth, è proposta a 10.900 euro. Vi presento ora questa Opel Astra, 1.6 gasolio, 110 CV, la vettura è stata immatricolata nel 2015 e ha percorso 58.000 km, è dotata di QList Control, viva voce, bluetooth, il suo prezzo è 10.500 euro. Siamo in casa Fiat con questa 500L, 1.6 multijet, 120 CV, la vettura ha percorso solamente 51.000 km ed è stata immatricolata nel 2016, è dotata di navigatore, viva voce, bluetooth e cruise control, è proposta a 15.300 euro. Siamo in casa Volkswagen con questa Golf, 2.0 gasolio, 150 CV, matricolata nel 2015 e ha percorso 119.000 km ed è dotata di cambio automatico, viva voce, bluetooth e cruise control, è proposta a 13.200 euro. Siamo in casa Audi con questa A4, 2.0 gasolio, 150 CV, prima matricolazione nel 2015 e ha percorso a 98.000 km, è dotata di navigatore e cambio automatico cruise control, è proposta a 20.900 euro. Siamo in casa Renault con questo Scenic, 1.5 DCI, 110 CV, prima matricolazione nel 2014 e ha percorso a 94.000 km, è dotato di navigatore e cambio automatico, viva voce, bluetooth e è proposto a 11.900 euro. Molto interessante questa Ford Focus, 1.6, benzina, GPL, quindi con il doppio impianto, è una vettura con 120 CV, quindi anche brillante, prima matricolazione nel 2014 e ha percorso a 85.000 km, è dotata anche del navigatore satellitare, insieme alla viva voce, bluetooth e cruise control, è proposta a 9.500 euro. Siamo in casa Peugeot con questa 308, motorizzazione 2.0 gasolio, 150 CV, versione station wagon, prima matricolazione nel 2015 e ha percorso a 85.000 km, la vettura è dotata di navigatore, sensori di parcheggio, viva voce, bluetooth e è proposta a 13.000 euro. È il turno di questa Volkswagen Passat variant, 2.000 gasolio, 140 CV, la vettura ha percorso a 101.000 km ed è stata immatricolata nel 2014 e dotata di sensori di parcheggio, la proponiamo a 11.900 euro. Siamo in casa Honda con questo introvabile CR-V, motorizzazione 2.200 gasolio, la vettura a 99.000 km ed è stata immatricolata nel 2014. È dotata di cambio automatico, viva voce, bluetooth, sensori di parcheggio e proposta a 16.900 euro. Proseguiamo in casa Mitsubishi, abbiamo questo bellissimo Outlander, è un 2002 turbodiesel dell'anno 2014, ha su 118.000 km, la macchina è full optional, navigatore, cambio automatico, viva voce bluetooth, cruise control, la presentiamo al prezzo di 14,4. Proseguiamo in casa Audi, abbiamo questa Audi a 4 station wagon dell'anno 2014, 2.000 turbodiesel, 190 CV, la vettura è accessoriata di navigatore, cambio automatico, bluetooth, cruise control, la diamo al prezzo di 22.000 euro. Un saluto da Massimiliano, eccoci qua in casa Nissan, presento una bellissima Nissan Qashqai con soli 35.000 km, dotata di sensori di parcheggio, bluetooth, chiavetta USB, cerchi in lega, navigatore al prezzo di 21.900 euro. Presento un bellissimo Renault Space, 1660 CV del 2016, dotato proprio di tutti gli accessori, fari all'oxeno, sensori di parcheggio, radio MP3, cerchi in lega, interni in pelle, navigatore, cambio automatico, sedili in pelle elettrici riscaldati. La presentiamo a 26.700 euro. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, vi ricordiamo che ci troviamo ad Esio, via per Binzago 73, vi aspettiamo numerosi nel salone per illustrarvi le nostre molteplici automobili. Un saluto particolare da Massimiliano, Alberto e da Gerardo. Vi salutiamo.